Stefano De Martino protagonista di un inaspettato e commovente regalo ad Eleonora Giorgi? Ecco cosa le ha regalato e le parole nei suoi confronti. Eleonora Giorgi di recente ha festeggiato il compleanno circondata dall'affetto della sua famiglia, ma anche dalle tantissime persone che le hanno sempre voluto bene. Quest'ultima da più di un anno, prosegue le cure contro la malattia che ha segnato inaspettatamente la sua vita. Molti conduttori e colleghi di Eleonora Giorgi hanno sempre mostrato molta vicinanza e supporto, tra questi non poteva di certo mancare Stefano De Martino. Il nuovo conduttore del gioco dei pacchi, Affari tuoi, ha voluto rivolgere verso l'attrice un gesto che ha fatto commuovere molte persone. L'annuncio del tumore al pancreas è avvenuto circa un anno fa, e da quel momento, non ha mai nascosto di star vivendo un percorso molto complicato e difficile. Ad esempio, l'attrice durante l'intervista a Vanity Fair aveva racconto di come la sua forza sia stata la famiglia. Parlarne per me è stato liberatorio. È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita, non importa. Ciò che conta è quello che voglio ora. Stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Mi sono riparata in questo bozzolo d'amore. Un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima, aveva affermato. Durante l'intervista aveva raccontato di come passava le giornate, e come tra i vari e piccoli momenti di gioia durante le sue giornate ci fosse il gioco dei pacchi, con il nuovo conduttore. Riguardo questo, a Vanity Fair aveva raccontato, e viva Stefano De Martino, dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza. Ovviamente, il suo commento non è di certo passato inosservato. Stefano De Martino è presto venuto a sapere delle parole al miele che Eleonora Giorgi aveva speso nei suoi confronti, e con grande dolcezza, non ha potuto far altro che ricambiare il gesto, a farlo sapere è stata direttamente l'attrice. A quanto pare, la donna attraverso le storie del suo profilo Instagram ha condiviso a foto di un mazzo di rose bianche e rosa, inviate proprio dal nuovo conduttore di, Affari tuoi, Stefano De Martino. Assieme al mazzo di rose bianche e rosa, non poteva di certo mancare un dolce bigliettino, che Eleonora ha voluto condividere con i suoi fan. Sul bigliettino c'era scritto, cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto.